Ciao Michele, allora ultima partita del giro d'andata, com'è andata? Bene, benissimo, abbiamo vinto 4 a 1, 5 a 1. 5 a 1. Carino, bene. Abbiamo superato la seconda, adesso eravamo i secondi. Tre punti dalla prima, quattro. Bene, siamo tutti che mi guardano. E per il girone di ritorno, obiettivi? Raggiungere la prima? Speriamo. Almeno nelle prime due, almeno. Poi è il primo anno che giochiamo insieme. Per arrivare ai play-off, quindi i primi due posti. Esatto, per l'anno che giochiamo insieme, va bene. Siamo bravi, dai. Dai raga, forza Rispondiamo tutti.